Mio suocero è un ex sequestrato dell'anonima sarda, giuro non sto scherzando, è stato rapito a dicembre del 1978, proprio mentre nasceva la mia compagna, adesso ogni tanto ai pranzi così, per farlo incazzare lo chiamiamo Gesù, perché ha passato il Natale in una grotta al freddo e al gelo, non sto scherzando. E' sempre mio suocero, è scusa, non è mio suocero.